Musica Buon lunedì pomeriggio, buona settimana e ben ritrovati a TV Estate il nostro programma giornaliero che vi sta accompagnando in questi primi scampoli d'estate in provincia di Pavia e in provincia di Milano, a Milano città per raccontarvi tutto quello che succede su questi territori anche oggi avremo collegamenti in esterna, ospiti in studio cercheremo di fare un po' il punto della situazione su quanto sta accadendo allora andiamo subito a collegarci per i saluti iniziali con Maria Rosa Aurelio Maria Rosa, dove sei esattamente? Eccoci qua caro Stefano e cari telespettatori, un saluto a tutti noi ci troviamo all'interno di un museo, esattamente il museo di Stradella e per i saluti iniziali ho deciso di presentarvi quest'amico il Bisonte delle Steppe, vi piace? non parleremo di Bisonte delle Steppe però insomma mi sembrava un bel modo per salutare tutti voi ma soprattutto i bambini che ci guardano numerosi da casa state con noi perché faremo fare un bel viaggio nella preistoria e non solo bene 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 Maria Rosa grazie mille poi andremo a scoprire un po' questo museo che rappresentano un'eccellenza sul territorio provinciale invece adesso andiamo a scoprire l'ospite in studio ed eccoci con me c'è Franco Campetti sindaco di Valdinizia ben ritrovato sindaco prima di tutto con lei non voglio parlare di politica ma voglio parlare di turismo perché insomma dovete sapere cari telespettatori che insomma Valdinizia è uno dei comuni dell'oltrepò montano ci sono addirittura ben 50 chilometri circa di sentieri e proprio di sentieristica di questo turismo lento che grazie anche e purtroppo alla pandemia ha cominciato e è ritornato in auge dopo anni in cui si pensava di andare solo alle Maldive o negli Stati Uniti invece scopriamo tutti che sotto casa c'è un grande patrimonio da scoprire e soprattutto un grande patrimonio turistico sindaco partiamo da questo discorso partiamo un po' da questa sentieristica è uno dei comuni con più chilometraggi di sentieri e partiamo proprio da questo discorso quanto è importante questo turismo lento? Grazie direttore, buonasera a tutti i telespettatori il comune di Valdinizia ha investito e ha investito e ha programmato per valutare e rivalutare questa rete sentieristica ovviamente come istituzione ci siamo avvarsi dalla collaborazione degli amici di Poggio Ferrato ci sono una serie di volontari che hanno tracciato che hanno contribuito a sistemare, a fare manutenzione e a anche segnalare una serie di percorsi in parte storici, in parte anche nuovi e questo per consentire ai turisti che vengono a Valdinizia ma anche alle tantissime persone che hanno le seconde case di dare la possibilità di avvicinarsi alla natura noi sui sentieri abbiamo puntato su alcuni percorsi uno più religioso, il sentiero degli oratori tocca quattro oratori dal nostro comune l'oratorio di San Lorenzo, quello della Madonna, di San Rocco e di San Giulio sul, diciamo, una parte di questo sentiero ecco, vediamo alcune immagini di quei paesaggi meravigliosi quelli della Val Nizza, da cui poi prende anche il nome il suo comune assolutamente, assolutamente sì e stavo dicendo, oltre al sentiero degli oratori c'è il sentiero delle fontane ci sono cinque fontane che caratterizzano questo sentiero è oggetto di una ricerca da parte della scuola elementare di Pontenizza che è quasi giunta al termine e poi andremo ad integrare appunto questo sentiero anche con lo studio, la ricerca di queste ragazze che ci fanno un po', ci insegnano un po' ad ammirare e ad ricepire quello che ci può dare il sentiero e quindi le emozioni, gli animali, le piante l'altro sentiero molto, molto bello perché parte, e qui vediamo alcune immagini parte dal piazzale della Chiesa di Sant'Albano e si sviluppa lungo le sorgenti del Torrentenizza arriva su quasi a Pietregavina torna verso Oramale e poi ci sono diverse possibilità di scendere o verso Cassano Superiore direttamente ancora verso le sorgenti del Nizza un bellissimo, stavo dicendo, sentiero che anche questo è stato oggetto di uno studio di una ricerca proprio della scuola elementare di Pontenizza a cui fanno capo anche gli studenti di Valdinizza e che questa ricerca ha dato poi un nome al sentiero che ha delle carbonaie il nostro territorio è boschivo per oltre il 60% del territorio chiaramente era caratterizzato ai tempi dalla produzione di carbone ovviamente da vendere e quindi c'erano alcuni siti dove appunto si faceva il carbone e noi abbiamo voluto riesumare un po' anche questa leggenda caratterizzando questo sentiero dando il nome e sul sentiero ci sono proprio delle cartellonistiche che insegnano o fanno vedere come all'epoca si faceva il carbone Ecco, noi ci siamo stati anche recentemente con la nostra trasmissione, con le nostre telecamere di itinerali che vi stanno raccontando già da 4 anni a sta parte 4 stagioni a sta parte tutto il territorio che si snoda tra la provincia di Pavia e di Milano raccontando le cose belle e buone di questi territori il mercoledì sera, sempre in prima serata alle 21.10 siamo stati a Valdinizia cosa che ci ha colpito? che ci sono anche delle acque sulfure se non mi sbaglio, proprio sul sentiero delle carbonaie Sì, 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 è vero, è vero su questo sentiero c'è al di là delle sorgenti del Nizza che danno ovviamente all'acqua all'acquedotto l'acqua potabile è buonissimo all'acquedotto di Valdinizia abbiamo qualche sorgente un paio per le età dove esce questa area acqua solfore acqua che noi chiamiamo un po' anche acqua d'uovo per questo odore particolare direi poco gradevole ma piacevole è un'acqua leggerissima che soprattutto nel periodo estivo viene molto valorizzata dai turisti ma anche dagli abitanti del luogo che vanno proprio a prenderla e berla perché fortemente diuretica e soprattutto bevibile leggera da bere nel periodo estivo quando abbiamo bisogno di bere molto è una cosa simpatica simpatica, positiva e fa bene alla salute Ecco, avete investito parecchio sulla sentieristica perché inevitabilmente vi siete accorti non solo in questi mesi di pandemia ma già in tempi pre-covid bisogna darvi atto di questa cosa perché avete capito che poteva essere un'attrazione turistica la sentieristica il turismo lento Guardi, quando si amministra un comune come quello di Valdiniza che non ha discariche non ha fabbriche pochi artigiani o vendiamo le bellezze e l'ambiente che abbiamo anche contribuito a salogordare perché ad esempio tutto il territorio che va boschivo che va da Poggio Ferrato verso Ormala andando a Varsi che è ben più ampio come area coinvolge poi anche altri comuni ma abbiamo fatto scelte di non consentire più l'edificabilità quindi salogordare i borghi in questo caso noi abbiamo solo Ormala e la parte alta di Poggio Ferrato Che ottica un meraviglioso castello ricordiamolo Assolutamente il castello di Ormala è il simbolo della Valdiniza è il nostro simbolo è la nostra perla se vogliamo una perla che è strutturale che di fatto domina l'intera valle Staffora alta valle Staffora e le stavo dicendo in questo contesto abbiamo scelto di bloccare l'edificazione quindi si ristruttura solo quello che è esistente non sono ammesse nuove costruzioni neanche agli agricoltori questa è una scelta forte che abbiamo fatto come amministrazione condivisa con tutta la maggioranza sono anni che io dal 2011 che amministro ma come sindaco ma ero il primo vice sindaco l'attuale vice sindaco Culacciati era sindaco e quindi abbiamo condiviso le scelte un po' calate dall'alto con il PGT ma sicuramente sicuramente voglio dire una scelta dell'amministrazione per salvaguardare se lo salvaguardiamo un territorio lo mettiamo a disposizione per un turismo lento certo perché chi viene a Valdinizza deve trovarsi un habitat e un territorio che sia il più gradevole e usufruibile possibile e che voglio dire attraverso i sentieri ma abbiamo anche progetti di promuovere uno o più percorsi di mountain bike mettendo a disposizione sia del singolo che anche delle famiglie volendo fare dei percorsi accessibili un po' a tutti pensando anche di mettere a disposizione biciclette anche pedilata assistita per consentire sia il singolo ma anche voglio dire alla famiglia di poter usufruire attraverso queste biciclette di percorsi idonei questi sentieri sono utilizzabili dalle bici elettriche? alcuni sì ma non tutti tant'è vero che il sentiero è nato per essere proprio un sentiero per camminatori il percorso di mountain bike lo stiamo lo stiamo affrontando in questo momento abbiamo avuto un finanziamento dal Gale quindi andremo a fare proprio un infopoint a casa ponte da questo infopoint ci saranno disponibili sia le biciclette elettriche sia la possibilità in prospettiva sempre con i fondi delle aree interne attraverso la guida montana di fare anche pernottamenti quindi si pensava un oltrepo' ospitale e Valdinizio ospitale mette a disposizione di potenziali turisti che vogliono vivere e vogliono venire a riconoscere Valdinizio a un prezzo magari calmerato adesso valuteremo e la scuola di Sant'Albano che è in ristrutturazione darà la possibilità di utilizzarla per otto posti letto bene Sindaco poi ritorneremo a parlare ancora con lei dei sentieri della Valdinizia mentre ora andiamo invece a collegarci con Maria Rosa Raul Elio ed eccola ed eccola con un ospite ed è anche una amica la responsabile la direttrice del sistema museale e dell'oltrepo' pavese Simona Guioli Maria Rosa salutamela prima di tutto e poi ovviamente vogliamo capire perché sei lì ecco sì infatti direttore so che ci tenevi a portare i tuoi saluti ti saluta Stefano Calvi dallo studio e quindi la presento anch'io la nostra Simona Guioli che è la direttrice del museo qui di Stradella e anche coordinatrice di tutto il sistema museale dell'oltrepo' pavese molto orgogliosamente ci sta ospitando all'interno di questa sala dove possiamo vedere dei magnifici diorami e che sono insomma tutti così di carattere naturalistico e legati al nostro oltrepo' questo museo in particolare ha forte questo sentimento ovvero è un museo naturalistico ma è anche forte in voi il senso di inclusione verissimo perché questo museo è proprio nato grazie alla volontà di questi appassionati e questa sala è dedicata allo storico direttore Carlo Cova che è stato anche il promotore di questi due diorami proprio per raccontare e includere anche chi non è di Stradella ma non è dell'oltrepo' proprio nel racconto di questo fantastico territorio non è solo l'esposizione di reperti e qui addirittura abbiamo queste ambientazioni appunto che si chiamano diorami ma è anche un lavoro di ricerca di conoscenza di documentazione e di restituzione che poi vedremo anche attraverso delle mostre attraverso altri allestimenti e iniziative ma partendo appunto da questi due diorami è un po' come dire il biglietto da visita del nostro oltrepò l'aspetto montano e l'aspetto del fiume quindi due paesaggi che più di tutti ci rappresentano allora il museo di Stradella come tutti i musei del nostro territorio ha riaperto i battenti dopo gli stop dovuti alla pandemia e sarà aperto tutta estate quindi invitiamo turisti appassionati a venire a visitare davvero il grande lavoro espositivo della direttrice e non solo di tutti i suoi collaboratori appunto di tutti gli appassionati che cosa si trova qui al museo di Stradella nello specifico? Oltre appunto queste rappresentazioni del territorio ci sono degli approfondimenti su quello che è la fauna e la flora e quindi l'aspetto etologico ecologico del nostro appennino e della nostra pianura quindi rimandi anche a quelli che poi sono il paesaggio l'origine diciamo della storia quindi anche arriviamo fino a raccontare dei prodotti tipici che sono tali grazie proprio a questo contesto in particolare e poi tutto un discorso legato alla storia geologica quindi a come si è formato il nostro appennino a quali sono i fossili e i minerali che lo rappresentano e ci sono veramente delle unicità infatti dopo andremo a scoprire insieme alla nostra signora Guidoli alcuni reperti unici che abbiamo appunto il piacere di potervi mostrare e poi insomma girando insieme a te questa realtà direi che proprio appunto io ho fatto l'apertura insieme al bisonte della steppa e così scherzando insieme ai bambini però è un museo che si presta anche alle scuole è un museo pensato proprio per raccontare in modo estremamente semplice e accattivante e prevalentemente proprio a un pubblico scolastico vero è che però ci sono anche degli approfondimenti per gli adulti quindi è un museo che comunque può essere visitato in qualsiasi fascia d'età le proposte però che facciamo prettamente per i bambini quindi il pubblico scolastico in generale o per i gruppi sono specifiche e quindi anche articolate secondo i vari argomenti che si trovano nelle sale del nostro museo e allora abbiamo detto che il museo ha riaperto insomma si potrà visitare tutta estate c'è la possibilità anche di visite guidate? come in tutti i musei del nostro trepò è possibile prenotare delle visite contattando appunto i numeri che si trovano nei siti istituzionali eccetera vi aspettiamo l'anno scorso è stato veramente un anno di boom incredibile soprattutto per le realtà più turistiche del nostro appennino ci auguriamo che quest'anno sia la stessa cosa quindi aspettiamo tutti voi anticipiamo ai nostri telespettatori che parleremo anche di due mostre molto particolari una è proprio qua allestita nel museo di stradella è quella che riguarda le farfalle che poi diventerà itinerante vero? esatto proprio per come dire in risposta a questo successo di visitatori dello scorso anno abbiamo voluto implementare l'offerta con mostre che comunque raccontassero le peculiarità ma anche le criticità se vogliamo del nostro territorio per sensibilizzare sempre maggiormente l'utenza c'è un ritorno vero al contatto fra uomo e natura no? forse anche dopo il periodo che abbiamo vissuto c'è una proprio veramente un bisogno anche lungo i sentieri lungo i siti diciamo come i SIC e queste mostre raccontano proprio questi luoghi e queste peculiarità dall'altra ci sono approfondimenti come la mostra di cui parleremo più avanti sulle problematiche del nostro ambiente e senza anticipare nulla parleremo di alieni ecco alieni che questa volta però non sono extraterrestri arrivano dalla nostra terra ma magari disturbano più degli extraterrestri e allora rimanete con noi perché davvero faremo un viaggio abbiamo detto nella preistoria attraverso dei reperti unici che trovate solo qui a Stradella poi faremo un bel tour della mostra delle farfalle che dopo dove sarà dopo Stradella? il programma sarebbe quello di portarlo a Codevilla Menconico Colli Verdi e poi ci sono altre richieste vedremo di così prima se la caparra e poi parleremo appunto anche di alieni quindi per il momento Stefano io ti restituisco la linea ma tornate presto abbiamo tanto da raccontare bene bene Maria Rosa grazie mille per questo per questa anticipazione chiamiamola così mentre noi parleremo ancora di turismo ma con il nostro ospite Campetti abbiamo visto questa è un'importante realtà quella dei musei in oltrepo pavese ognuno ha le sue sfaccettature qualcuna andremo anche a carpirla proprio nella puntata di oggi però è un turismo anche quello un turismo culturale con lei abbiamo parlato di turismo naturalistico però c'è anche un turismo importante sull'oltrepo che è il turismo gastronomico sicuramente sicuramente l'oltrepo in generale chiaramente io parlo di Valdinizia in particolare offriamo offriamo prodotti tipici unici unici perché perché a partire dal salame di Varsi che è un'eccellenza e produciamo a Valdinizia c'è uno dei quindici sedici comuni che possono freggiarsi della DOP se non mi sbaglio mi ricordo più il numero più numero meno sono forse un po' meno i comuni che si possono freggiare del DOP del salame di Varsi Valdinizia rientra pieno abbiamo anche un'ottima struttura che fa una produzione sia quantitativa che qualitativa di eccellenza ma abbiamo frutta da questo aumento pesche le mele con tutti gli elaborati anche con confetture abbiamo una produzione discreta di miele abbiamo diversi produttori anche giovani un ragazzo giovane ha anche creato un appiario del benessere che detta così sembra un po' riduttiva ma ha pensato a una casetta dove le arnie e le arnie quindi le api sono fuori ma divise da una piccola griglia quindi le api non possono entrare nella casetta dove invece ci può entrare la persona si rilassa guarda il bellissimo paesaggio e sente i profumi e il raggio delle api e questo rilassa molto credo che ce ne siano 15 tutta Italia quindi una bellissima iniziativa ma potremmo potremmo parlare abbiamo parlato del salame abbiamo parlato del mele abbiamo parlato della frutta delle mele e diciamo che il 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 turista che vuole venire ad passare qualche giorno a Valdenza non si annoia oltretutto noi abbiamo due panifici che ancora panificano come una volta con il lievito madro e quindi voglio dire con forni ancora ancora un po' tradizionali come una volta e con prodotti non solo di pane ma anche di dolciumi che sono a livello diciamo provinciale ma sicuramente c'è prodotti tipici del nostro territorio che poi si sviluppano hanno hanno si sono specializzati sia in panettone artigianali sia in colombe nel periodo ovviamente ma poi in torte torte alle mandorle e da biscotti ecco diciamo che insieme poi alla ristorazione in eccellenza è data da due agriturismi credo che si possa trovare un po' tutta quella tipicità che l'oltre poi ci può offrire noi l'unica cosa che non abbiamo è il vino perché non è siete troppo alti non è evocato il nostro territorio ma per il resto è troppo alta ecco quanto è importante per le amministrazioni comunali non parlo solo di quella di Val di Nizza ma di gran parte dell'oltrepo pavese mettere insieme e coniugare l'aspetto enogastronomico gastronomico nel vostro caso e l'aspetto anche naturalistico devono essere un tutt'uno devono essere un qualcosa per cui dall'altra parte il turista li sappia anche apprezzare beh è chiaro adesso ho parlato in particolare di Val di Nizza ma è evidente che nell'ambito della comunità montana sicuramente noi facciamo rete e anche grazie finanziamenti che abbiamo avuto un finanziamento importante che poi si chiama delle aree interne è chiaro che dobbiamo fare uno sforzo per far uscire un'immagine anche dal nostro territorio di quello che il territorio della Valle Staffora può offrire in generale è di questi giorni qualche mese fa è stata inaugurata la Greenway la Voghera Varsi è un punto di partenza ci sono molte aspettative per un turismo ricordiamo i nostri respiratori è una pista ciclabile molto bella che collega Voghera e Varsi che percorre la storica trattaferrata del trenino che collegava i due centri principali dell'oltrepò montano quindi Varsi e ovviamente la capitale in pianura che è Voghera assolutamente grazie per la precisazione ed è chiaro che questo è un volano per un turismo come si diceva prima un turismo lento un turismo fatto di sentieri fatto anche di pedalate Valdenizza che non è su questa asse ma è staccata di sei chilometri nella valle in un affluente inizio in un affluente dello Staffora come amministrazione puntiamo più su un discorso di biciclette come dicevo prima legato più alle monta bike al sfruttare quelle strade quei percorsi un pochettino più diciamo impervi rispetto alla green ma compensata da per chi vuole una pedalata assistita della tecnologia oggi sulle biciclette ci fanno cose favolose e stupefacenti certo ecco noi abbiamo visto prima delle immagini molto belle perché sono tutti sentieri quelli della zona sua del suo comune tutti anche arredati con panchine aree picnic cartellonistica come lei ha già citato sindaco quindi anche è un investimento che un comune fa verso il proprio territorio questo certo se vuoi se vuoi che vengano utilizzati e percorso quantomeno che siano fruibili ecco li vediamo ad esempio la Madonna del turista insomma sono tutte piccole aree accoglienti belle dove anche uno che passeggi in modo tranquillo con la propria famiglia può fermarsi a godere della frescura piuttosto che della natura quello è vero ed negli anni noi abbiamo investito proprio su questo sentiero dove ci sono queste immagini abbiamo investito non più tardi di forse un paio di anni fa 40.000 euro un progetto proprio di riqualificazione di mensa in sicurezza di gran parte vediamo gli steccati di gran parte di questo di questo sentiero ovviamente sono fondi che il comune non può permettersi provengono dal PSR piano di sviluppo rurale fondi comunitari messi a disposizione da regione Lombardia e qui abbiamo fatto una prima parte adesso proprio proprio in questi giorni sempre attraverso il GAL che è il gruppo di azione locale dell'oltre poppavese sempre con fondi comunitari abbiamo avuto un finanziamento di circa 20.000 euro e integriamo noi con il costo dell'IVA che non ci viene riconosciuto comunque con un progetto che complessivamente viaggerà sui 25.000 euro e sono previste 5 aree di sosta proprio 5 aree dove è possibile fare il picnic e avere un minimo di ristoro una serie di cartelloni quindi una cartellonistica tutta uniforme che andrà ad implementare quella già esistente e in alcuni tratti dove riteniamo ci sia un pericolo andremo a ripristinare o a fare nuove stagionate questo sempre per arrivare a dare una fruibilità che sia non dico quella dell'alta montagna dove sono più bravi di noi ma però comunque un percorso o più percorsi che il turista che appunto vuole vuole venire nella nostra zona ha la possibilità di fare in tutta tranquillità in tutta sicurezza Bene Campetti io mi fermo per qualche istante vado in pausa pubblicitaria poi ritorneremo con un altro ospite a dopo Rieccoci con TV estate 18.03 rigorosamente in diretta già stiamo affrontando diverse situazioni parlavamo di turismo legato ai prodotti tipici parliamo invece di un altro grande prodotto che è il vino adesso scoprirete con chi lo faremo Ed eccolo alle mie spalle abbiamo con noi il presidente della Milano Wine Week Federico Gordini ciao Federico ben ritrovato Ciao Stefano buonasera agli ascoltatori partiamo subito dalla prossima edizione che si legge alle tue spalle dal 2 al 10 ottobre 2021 questa Milano Wine Week che in pochi anni è diventata uno dei simboli per chi ovviamente vuole promuovere una grande tipicità italiana addirittura sei riuscito con la tua grande capacità anche di portare questo brand ormai milanese al di là dei confini ovviamente nazionali bravissimo ecco da dove partiamo appunto da questa cosa il fatto che insomma è diventata una manifestazione davvero importante ma Stefano sai abbiamo iniziato un percorso in un periodo particolare sull'internazionale come il 2020 abbiamo pensato a come dare un servizio alla filiera vinicola che non riusciva in quel momento a promuoversi perché erano sospese tutte le iniziative di stampo fieristico i tour di promozione all'estero e quindi abbiamo costruito delle location molto importanti quest'anno saranno in 11 città del mondo in rappresentanza di 7 mercati andiamo dagli Stati Uniti al Canada alla Gran Bretagna alla Russia alla Don Kong al Giappone alla Cina dove creiamo degli eventi di degustazione eventi che in realtà vengono realizzati a Milano e che vengono mandati e anche qui insomma per te che sei un grande esperto del mondo mediatico di fatto noi diventiamo una televisione diventiamo un media che porta questo segnale della degustazione evidentemente in contemporanea in alta definizione in queste 11 location del mondo dando la possibilità agli operatori e ai giornalisti di questi paesi di poter degustare in contemporanea i vini e di conseguenza di poter portare avanti sia il business sia la comunicazione delle nostre aziende italiane Federico qual è il motivo del successo della Milano Wine Week secondo te? credo una capacità di far evolvere il linguaggio la comunicazione il modo di lavorare sia sul consumatore finale che è estremamente importante non è mai stato forse considerato come si doveva da parte del mondo del vino che ha sempre avuto anche un modo di comunicare abbastanza tecnico che a volte ha anche un po' allontanato il consumatore ecco noi dobbiamo far evolvere questa comunicazione Milano è la città giusta per farlo penso che il fattore Milano abbia inciso notevolmente Milano a capitare delle eccellenze dopo la moda e il design ovviamente arriva anche il vino e penso che anche nel modo di costruire di fare business incida moltissimo una modalità nuova che implementa soprattutto quest'anno la tecnologia nella vita fisica perché noi abbiamo imparato un sacco di cose durante il lockdown sull'approccio tecnologico ma abbiamo la necessità di portare evidentemente nella fisicità e nella vita di tutti i giorni questa cosa e noi quest'anno avremo tantissime innovazioni in questo senso che permetteranno anche agli operatori di poter ottimizzare il loro tempo la Milano Wine Week te dico come sarà possibile coniugare la pandemia con la manifestazione l'anno scorso se non sbaglio la Milano Wine Week è stata l'unica manifestazione del vino a livello internazionale ricordiamo è saltato Vini Italy è saltato Pro Wine è rimasta solo l'anno scorso la Milano Wine Week quindi è stato come è stato è stato difficile coniugare un evento di questo spessore con la pandemia e quest'anno come sarà ma è stato ovviamente difficile Stefano però ci siamo riusciti ci siamo riusciti con un protocollo di regole importanti che ci hanno permesso sia in Italia che nel mondo di svolgere la manifestazione nella massima sicurezza quest'anno chiaramente il tema del Green Pass tanto osteggiato però per noi organizzatori di eventi è un valore perché ci dà la possibilità di avere delle regole certe per i partecipanti all'evento e quindi Green Pass sarà sicuramente una base di richiesta per tutti coloro i quali sia operatori che pubblico vorranno partecipare alle nostre manifestazioni ma in generale quest'anno poi ci sarà anche un'implementazione di tecnologia ad esempio in tutte le nostre location ci saranno queste macchine per la sanificazione dell'aria di ultima generazione che daranno la possibilità veramente di eliminare il 99.9% dei virus e dei batteri dall'aria quindi cerchiamo anche di investire in tecnologia da questo punto di vista siamo assolutamente ottimisti e positivi dobbiamo essere io credo che anche il ruolo importante dei media sia quello di cercare di portare dei messaggi di positività ricordiamoci che la Milano Wine Week sarà il terzo grande evento che Milano ospiterà da settembre fino appunto a ottobre perché abbiamo ovviamente il salone del mobile la settimana del design che partirà il 5 di settembre poi abbiamo la settimana della moda e poi arriva la Wine Week quindi un momento di ripartenza dell'eccellenza italiana che va supportato dobbiamo fare in modo che ci sia un percepito sia da parte delle persone che degli operatori che qui c'è un'industria degli eventi che va avanti che è fondamentale che ha una filiera attorno straordinaria e che è pronta a lavorare nella massima sicurezza Federico tu conosci a fondo il mondo del wine come si dice sei anche stato uno degli innovatori degli ultimi anni di come si concepisce anche la comunicazione nel mondo del vino questa pandemia che cosa ha creato al mondo appunto alle aziende soprattutto agli operatori secondo te riusciranno a ritornare ad essere le cantine pre-covid? Allora io credo che sicuramente siano uscite anche tante opportunità da questa situazione perché abbiamo cambiato il nostro modo di concepire il mercato abbiamo cambiato il nostro modo di concepire il mercato abbiamo costruito delle opportunità nuove sicuramente abbiamo rafforzato alcuni canali di vendita penso al rafforzamento netto ovviamente a grande distribuzione organizzata penso al rafforzamento del mondo della vendita online che è sicuramente un tema molto importante quindi abbiamo imparato anche delle cose è chiaro che lo stop per un periodo abbastanza lungo al canale dell'oreca è stato molto pesante soprattutto per le aziende piccole e medie le aziende di filiera in particolare che fanno tanta qualità e che la fanno sia in Italia che nel mondo quindi inevitabilmente la filiera ha patito molto devo dire c'è stata una grande ripresa del mercato tra aprile e maggio quindi abbiamo avuto sicuramente un risultato molto importante da questo punto di vista e poi insomma stiamo crescendo in maniera devo dire molto consistente anche in questi mesi di luglio poi ci sarà ovviamente la pausa agostana ma è un mondo che reagisce e io sono convinto del fatto che ne posso uscire più forte di prima certo questo è un bel segnale soprattutto detto da un esperto parlavamo prima in studio e con i nostri ospiti anche di oltrepopavese che tu conosci molto bene soprattutto quello non collinare che ti appartiene ma quello un po' più montano di turismo legato ovviamente al prodotto tipico ecco quanto oggi è importante quella parola tanto usata enoturismo è fondamentale perché parte Stefano della crescita di valore del settore del vino noi scommettiamo sul fatto che Milano possa essere una città straordinariamente importante per la valorizzazione di un'industria che attualmente vale 12 miliardi e mezzo di euro ma che ha un potenziale straordinario perché ancora tantissimi dei nostri prodotti non sono posti sul mercato ad un prezzo che li giustifica che giustifica il grande lavoro evidentemente prima di tutto dall'agricoltura poi alla trasformazione che c'è dietro ma questo passa attraverso la valorizzazione del rapporto tra il prodotto e il territorio quindi il neoturismo è fondamentale da questo punto di vista perché consentire una scoperta maggiore di quelli che sono gli itinerari le cantine i valori di questo mondo è qualcosa di assolutamente fondamentale Milano si candida lo abbiamo detto nel corso della nostra conferenza Palazzo Reale il 5 di luglio ed è stata ben sposata sia dalla nostra amministrazione comunale e da tutte le istituzioni presenti a capitale ad abbo dell'enoturismo perché se tu pensi a quello che circonda Milano parliamo del nostro trepò ma parliamo anche di tante altre zone dalle Langhe alla Valpolicella fino ad arrivare alla Food Valley di Parma abbiamo un potenziale straordinario di drenare tantissimo turismo e farlo a partire da ottobre è interessante perché dato 2019 in un anno in cui Milano ha fatto il record di turismo 11 milioni 800 mila persone sembrano numeri evidentemente molto lontani adesso ma sono numeri che continueranno che ritorneranno ad esistere ottobre è stato il mese più importante che un oltre 1 milione e 80 mila turisti dobbiamo pensare al fatto che deve diventare un'offerta permanente della città il fatto di poter garantire alle persone la possibilità di fruire questi itinerari noi lo faremo come Milano Wine Week con il progetto dei Wine Tours che saranno appunto dei tour che collegheranno diverse location che sono a massimo di distanze d'ora e mezza da Milano tra cui l'oltrepo consentendo appunto queste esperienze alle persone che verranno a visitarci ma con l'obiettivo di rendere permanente questo servizio soprattutto nel momento in cui ricominceranno dei flussi turistici più regolari che ovviamente non vediamo l'ora di riavere vi dico ancora una domanda quale sarà il valore aggiunto della Milano Wine Week la capacità di fare vivere un'esperienza e delle esperienze a partire da quelle che si vivranno a Milano con un approccio che porterà la tecnologia attraverso un'app ad esempio che si chiama W che sarà scaricabile gratuitamente da parte di tutti gli interlocutori e che avrà la possibilità darà la possibilità di poter vivere un'esperienza di manifestazione decisamente aumentata tutte le centinaia di location che parteciperanno la manifestazione saranno geolocalizzate si creeranno degli itinerari in città speciali che non valorizzeranno solo i contenuti della manifestazione ma anche le venues i musei le iniziative che la città presenta evidentemente in un calendario normale ma soprattutto diventerà un grande gioco perché anche nel nostro distretto dell'Oltrepopavese che sarà Eustacchi Plinio ci sarà la possibilità di partecipare alle varie iniziative che vengono realizzate dalla ventina locali e ristoranti appunto del quartiere in abbinamento all'Oltrepopo e pensa che diventerà tutto un grande gioco perché chi parteciperà ad almeno tre esperienze potrà vincere un'esperienza di degustazione sul territorio e qui ci ricolleghiamo all'enoturismo quindi sarà un grande modo di anche intrattenere le persone in una maniera diversa facendo scoprire il grande valore della città ma soprattutto rendendo il vino un'esperienza fruibile un'esperienza che sia alla portata delle persone non dimenticando però il fatto che siamo anche a una manifestazione con un calendario di eventi business e dedicate agli addetti al settore molto molto profondo sempre più profondo quindi cerchiamo veramente di portare il vino a tutti perché questo è l'obiettivo fondamentale grazie mille Federico Gordini presidente della Milano Wine Week ti saluto e buon lavoro ciao Federico grazie Stefano grazie a voi una buona serata allora io rimango ancora qui al maxi schermo perché dovremmo avere collegata la nostra Maria Rosa Aurelio dalla Museo di Stradella eccola eccoci qua direttore perché il nostro oltre poi è così bello perché possiamo godere di questi bellissimi paesaggi perché quando arriviamo qui poi possiamo gustare questi buonissimi prodotti come è fatto il nostro territorio ecco che in quest'area del museo insieme alla nostra Simona Guioli possiamo davvero scoprire come è fatta la roccia come è fatto il sottosuolo dei nostri del nostro bello il trepò verissimo perché se abbiamo dei vini pregiati abbiamo un'agricoltura fiorente abbiamo dei paesaggi unici è proprio per la sua storia geologica oltre che ovviamente per condizioni climatiche particolari eccetera e qui lo raccontiamo lo raccontiamo in queste vetrine lo raccontiamo attraverso questi pannelli e tutto un po' ha avuto origine in questi milioni di anni da questi fenomeni insomma dal fondale marino piuttosto che da sconvolgimenti e vulcani eruzioni sottomarine eccetera abbiamo veramente tantissimi esempi tantissimi reperti molto molto particolari di tantissimi tipi di rocce diverse però c'è anche una cosa molto particolare che il mio occhio cade su meteorite inoltre poi abbiamo anche i meteoriti e allora è un cameo che facciamo al sindaco Campetti in quanto appunto queste per esporle abbiamo dovuto ricorrere a meteoriti addirittura americane ma in realtà unico nel suo genere diciamo in tutta la Lombardia se ne segnalano veramente pochissimi casi è il meteorite caduto proprio a Val di Nizza e più di un secolo fa nel 1903 alcuni giorni fa era proprio la ricorrenza il 12 di luglio alcune persone uscendo da Messa hanno visto appunto questo bagliore e da lì hanno scoperto che erano caduti dei frammenti di meteorite non è certa dalla collocazione diciamo perché le cronache dell'epoca non hanno riportato questo dato e quindi viene riportato generalmente la coordinata del comune però sappiamo che almeno due frammenti addirittura dicono uno Sant'Albano e uno Val di Nizza per non offendere nessuno nelle due frazioni sono caduti e da lì insomma sono stati portati con una storia incredibile uno addirittura da Milano un frammento perché il pezzo più grande è conservato a Milano ma un altro al British Museum e un altro addirittura allo Smithsonian a Washington e poi altri frammenti sono in giro un po' per i musei di tutta Europa quindi è veramente una storia incredibile questa se pensiamo a un paesino geograficamente anche così piccolo e così anche noi caro Stefano vogliamo salutare con l'occasione il sindaco di Val di Nizza che aveva parlato nella prima parte della puntata anche dell'importanza delle acque delle acque sulfure e qui capiamo anche il perché esatto dicevamo prima appunto l'origine geologica del nostro appennino ha fatto sì che circa 8 milioni di anni fa il mare prosciugandosi il mar Mediterraneo prosciugandosi ha lasciato questi residui salmastri che poi sono evaporati dando origine a gesso zolfo e altri minerali evaporitici da qui grazie a tutta una serie poi di complessi meccanismi geologici si sono originate quelle che oggi sono le nostre acque termali e qua proprio vediamo delle pietre sporche di giallo così volgarmente mi viene da dire che è zolfo esatto nella zona qui dell'appennino vicino a Santa Maria della Versa piuttosto che godiasco eccetera lungo il corso dello Staffara troviamo appunto ricchissimi giacimenti di gesso e di zolfo ma adesso cari amici che ci seguite vogliamo entrare in un'altra area molto importante del museo di Stradella che il nostro Stefano conosce molto bene perché lui insomma è un novello ricercatore così e quindi entriamo in un altro mondo ce lo vuoi raccontare quello dei fossili esatto perché se la geologia è così complessa abbiamo anche dei ritrovamenti altrettanto interessanti direi unici unici nel loro genere per quanto riguarda ad esempio le faune glaciali interglaciali che si trovano appunto a testimonianza di queste due fasi climatiche ma anche di animali come i mammuti i rinoceronti qui ho una vertebra ad esempio l'ippopotamo nelle fasi più calde quella che ha in mano una vertebra di esatto di rinoceronte rinoceronte non la specie le specie una delle specie che vivono adesso in Africa ma questo era legato al clima freddo quindi rinoceronte lanoso lo dice la parola dove è stata ritrovata? queste faune questi ritrovamenti vengono fatti lungo l'asta del Po perché restituisce queste ossa fluitate strappate via probabilmente da depositi primari e ce le regala appunto lungo gli aioni del suo corso c'è qualche altra cosa molto particolare che c'è solo qui che ci puoi far vedere? direi unica al mondo cioè questi sassolini si chiamano toliti che si trovano nelle orecchie dei pesci questi esatto sono state studiate da uno studioso belga e sono state attribuite a delle specie di pesce ora estinte ma simili a specie attuali che vivono a profondità importanti tipo 800 900 metri di profondità e a detta sua e degli altri studiosi che appunto le hanno interpretate sono le otolite quindi i pesci di mare più profondo mai trovate al mondo e affiorano anche lì torniamo un po' di campanilismo però nelle nostre terre in particolar modo alcune di queste si trovano a pizzocorno e poi qui vedo anche delle conchiglie che praticamente tipicamente sono quelle che io raccolgo quando faccio la passeggiata al mattino presto insieme ai miei bambini invece queste dove sono state trovate? allora tutte queste conchiglie hanno dai 4 ai 6 milioni di anni si trovano nella parte pede collinare cioè da Torrazza Coste Codevilla arriviamo fino a Volpedo Castellania eccetera e sono faune proprio di un mare abbastanza poco profondo se vogliamo quasi spiaggiate comunque di un mare vicino ormai alla riva e insieme a queste però si trovano conchiglie molto più antiche meno familiari rispetto a queste che avevano addirittura 90 milioni di anni che sono queste esatto ora sono estinte si chiamano ammoniti sono sempre cugine diciamo di queste qui che per noi sono più comuni ma questo pezzo è importante perché è uno praticamente dei pochissimi reperti se non l'unico nel nostro appennino trovato a testimonianza di queste faune e anche qui stiamo parlando di un mare estremamente profondo e molto antico perché appunto siamo circa 90 milioni di anni fa cioè 90 milioni di anni fa e praticamente questo è l'originale diciamo l'animaletto che galleggiava nelle acque tra l'altro spingendosi per propulsione all'indietro e questo che vediamo sono i resti del suo guscio anzi l'impronta del suo guscio e queste dove sono state ritrovate? queste sono state ritrovate vicinissime a Brallo di Pregola nella frazione Dezza di Bobbio ah bene bene allora vi abbiamo voluto così far vedere qualcosa delle tante cose che sono qui in questa zona del museo dedicato alla geologia nel prossimo collegamento ci concentreremo invece su quelle che sono le mostre dedicate a degli insetti molto particolari e poi anche a degli alieni ma adesso vi restituiamo la linea grazie Maria Rosa e andiamo invece a conoscere cosa è successo oggi nella giornata tra Milano e Pavia e quindi ci colleghiamo con la nostra newsroom dove abbiamo Paolo Barni per le anticipazioni del telegiornale sì buonasera buonasera dallo studio del telegiornale beh ci sono due dichiarazioni in qualche maniera collegate che dominano in apertura nelle edizioni di Milano e di Pavia partiamo dall'edizione di Pavia dove si parla ancora di quanto accaduto la scorsa settimana della vicenda che ha visto l'assessore del comune di Voghera a Massimo Adriatici sparare e uccidere una persona la sorella di Juns la vittima è intervenuta nuovamente sapete che nel weekend ci sono state delle manifestazioni per chiedere giustizia per la vittima a sabato a Voghera ma ieri pomeriggio se ne è tenuta una anche a Bologna lì è tornata a parlare la sorella della vittima ha posto una domanda perché mentre mio fratello è morto la persona che lo ha uccisa non è in carcere ma se ne sta a casa a sua queste le parole ancora una volta molto dure della sorella di Juns che arrivano proprio nelle ore in cui invece la difesa di Adriatici sta facendo un nuovo ricorso per chiedere nuovamente la revoca degli arresti domiciliari arresti domiciliari che erano stati confermati dalla GIP di Pavia nella giornata di sabato sappiamo che questa vicenda ha avuto un rimbalzo a Milano dove è poi venuto fuori che ha il porto d'armi e che giri armato e porti l'arma anche nel tragitto da casa fino all'ospedale il candidato sindaco per le comunali del centrodestra Luca Bernardo a questo proposito proprio intervenendo ai nostri microfoni il senatore di Fratelli dell'Italia Ignazio Larussa ha rilasciato una dichiarazione probabilmente destinata a far discutere Larussa ha detto Bernardo fa il medico e un medico si trova spesso in situazioni dove la sicurezza non è garantita pensiamo ad esempio il pronto soccorso giustificando in questo modo il fatto che Luca Bernardo giri armato questa è naturalmente la sintesi sentirete le parole pronunciate direttamente da Ignazio Larussa ai nostri microfoni durante l'edizione Milano brevemente altri due fatti di cui ci occuperemo per l'edizione a Milano la richiesta di rinvio a giudizio per il sindaco di Corbetta Ballarini e la comandante della polizia locale lì a Vismara in merito alle indagini che hanno riguardato il concorso che ha portato all'assunzione della stessa Vismara a reazioni durissime da parte di Ballarini che parla di una campagna d'odio nei suoi confronti e poi una vicenda davvero particolare con le piogge degli scorsi giorni diversi tronchi di fiume diversi tronchi di albero sono stati portati nella piena del fiume Ticino a Pavia sotto il ponte della Ferrovia dicono i volontari della Battagliere Colombo e degli amici del Ticino è sempre così ma siamo noi volontari a dover rimuovere queste macerie pericolosissime questi pericolosissimi detriti perché nessuna delle autorità preposte ha mai fatto nulla vedremo le immagini parleremo naturalmente di tanto altro poi nelle edizioni serali del telegiornale Stefano ti ricedo la linea Bene Paolo grazie mille per queste importanti anticipazioni non mi fermo per qualche istante poi ritorneremo in diretta con TV Estate Rieccoci nuovamente in diretta 18 e 31 con TV Estate allora ritorniamo a parlare con il nostro ospite in studio il sindaco di Valdinizia Franco Campetti da Stradella le hanno fatto un regalo hanno raccontato quell'aneddoto curioso regato al meteorite verissimo verissimo è un aneddoto ma è una realtà una scheggia una parte di questo meteorite tra l'altro è segnalato sul sentiero delle fontane proprio tra il monte Casarasco le due fruzioni grazie anche a Gigi Casarini che è uno dei volontari che ce n'avevo prima degli amici di Poggio Ferrato che contribuiscono anche a manutentare a realizzare e a tenere vivo la sentieristica grazie alle sue ricerche e le ricerche della Simona ha messo proprio una freccia c'è questo luogo che è stato individuato in base ad alcuni dati recuperati anche a un museo di Londra e sì è stato segnalato un punto di interesse che andremo a valorizzare sicuramente una curiosità in più su quei 50 km oltre di sentieri segnalati Campetti abbiamo parlato durante questa puntata lo ha fatto anche il presidente della Milano Wine Week Federico Gordini di Green Pass voi ce l'avete già questo Green Pass quasi naturalmente a Val di Nizza e su quelle colline se non sbaglio perché avete quasi raggiunto l'immunità di Greggia vi passi il termine beh diciamo che personalmente quando ho avuto la possibilità il vaccino l'ho fatto quindi io ho il Green Pass come si suol dire ma devo dire che anche grazie a un lavoro al lavoro importante che ha fatto il nostro medico di base Antonino Giuffre che ringrazio pubblicamente perché ha affrontato questa pandemia con il giusto approccio e con una presenza costante quindi sostanzialmente lui ci ha vaccinati la popolazione dagli 80 anni in su li ha vaccinati tutti poi sempre in collaborazione con i medici di base grazie al sindaco di Varsi alla comunità montana e alla TS che ha fatto un hub dedicato a Varsi come comuni in collaborazione con i medici con l'hub abbiamo vaccinato abbiamo la possibilità di vaccinare dai 50 anni in su e devo dire che è tolto qualche caso che le condizioni cliniche non consentivano diciamo che il 95% ma forse di più della popolazione oltre 50 anni è stata vaccinata chiaramente poi il lab di Varsi non è andato avanti per ragioni che non sono dettate dalla volontà ma state date da tutta una serie di problematiche AstraZeneca sì no Johnson Johnson eccetera eccetera e quindi adesso sono aperte le prenotazioni ovviamente con i canali normali è un territorio sicuro mi passi il termine ma guardi non voglio non voglio adesso sfatare ecco dare dati che poi vengono smettiti ci sono forti riprese di contagi a livello nazionale credo che è più di un mese che a Valdinizio non abbiamo un caso quindi vuoi perché abbiamo un territorio vasto vuoi perché la popolazione è molto attenta insomma diciamo che abbiamo contenuto i disagi veramente con qualche ospedalizzazione ma insomma e pochi contagi ma battuta veloce poi ritorniamo a Stradella il Green Pass come lo vede lei come lo legge visto che ci sono parecchie polemiche anche oggi leggevo sui giornali insomma la piazza la piazza urla tra virgolette contro contro questo documento guardi dove ci sono grandi numeri probabilmente ci sono anche altre dinamiche altre problematiche io posso parlare della mia esperienza personale io l'ho fatto convinto posso parlare del mio territorio dove le persone che ho contattato ne sentivano l'esigenza perché c'è la volontà la speranza di poter avere meno problemi dal punto di vista clinico questo è un dato oggettivo poi nelle grandi città nei grandi numeri bisogna capire bisogna capire tante sfaccettature e anche qualche paura perché è innegabile allora ritorniamo invece adesso a Stradella cambio d'ospite per la nostra Maria Rosa Aurelio giusto? sì caro direttore siamo qua in compagnia di Matteo Ercolani che è un collaboratore del Museo di Stradella e non solo insieme a Simona Guioli veramente coordinano un po' tutta l'attività e le mostre di cui vi abbiamo parlato nello specifico vogliamo parlare dell'attuale mostra molto importante quella sulle farfalle faccio una premessa per noi gente di pianura arrivare qui in oltre po' e vedere le farfalle è qualcosa di meraviglioso che non ci capita così spesso in città e poi arrivando qua ho scoperto che ce ne sono 126 specie nel nostro territorio sì esattamente siamo uno dei territori in Italia con il maggior numero di specie attualmente ma va sottolineato attualmente infatti le farfalle sono purtroppo tra le specie più a rischio in questo momento per diversi fattori tra cui specialmente purtroppo l'agricoltura intensiva che dalle nostre parti è molto diffusa ecco qua le vediamo rappresentate per fortuna non nelle teche ma con delle meravigliose fotografie da chi sono state realizzate? ecco sia le foto che i testi dell'intera mostra sono state realizzate dal dottor Tommasinelli ricercatore e divulgatore naturalistico che ha creato questo fantastico assemblamento di immagini che hanno la particolarità di non essere solamente immagini degli individui ma individui intenti a fare comportamenti importanti nei loro cicli vitali ecco ci puoi descrivere magari raccontare qualche fotografia? ecco qui abbiamo due fotografie in particolare dei due specie entrambe a rischio estinzione purtroppo in questo momento per diversi motivi qui a destra abbiamo zentia che è la farfalla con i colori sul nero e il bianco che purtroppo ha rischio estinzione a causa della sparizione della sua pianta nutrice pianta nutrice cioè quella che utilizzano le larve per alimentarsi prima di diventare adulte motivo simile abbiamo anche per l'ichena un'altra un'altra farfalla mentre per il zentia il problema è nella fase larvale qui abbiamo un problema nella fase adulta quindi la farfalla non trova più la sua fonte di nutrimento e quindi non riesce a sopravvivere ecco la farfalla questa arancione che stiamo vedendo è tipica della pianura padana a leggo e la troviamo ai margini delle risaie quindi insomma tante farfalle diverse per il nostro esteso territorio perché è importante proteggere le farfalle allora le farfalle sono un elemento fondamentale di un microcosmo che noi troppo spesso ignoriamo inoltre sono particolarmente a rischio in questo momento perché proprio appunto nelle risaie per esempio vengono utilizzati moltissimi insetticidi ad ampio spretto per eliminare quelli che sono le specie aliene che appunto come dicevamo non arrivano da Marte ma purtroppo spesso arrivano da altri continenti e sono quelle specie che noi qui non avevamo invece ora sono arrivate tramite tratte commerciali o comunque purtroppo per errore e stanno devastando le coltivazioni e anche il verde urbano perché non hanno predatori allora Matteo fammi fare questa premessa mentre qui al momento al museo di Stradella è possibile visitare la mostra delle farfalle che poi diventerà itinerante come dicevamo prima con Simona a Brallo di Pregola in un'altra delle vostre sedi c'è proprio la mostra alieni e anche questa oltre al nome molto particolare è una mostra davvero interessante perché si parla di queste specie di insetti infestanti che non sono tipiche del nostro territorio e perché sono arrivate e soprattutto come facciamo a eliminarle? beh questa è una bella domanda a Brallo si possono osservare non solo specie di insetti ma anche specie mammiferi come il procione o la ormai diffusissima nutria sia come foto che come reperti quindi anche animali impagliati o reperti riproduzioni il problema di come combattere gli alieni è attualissimo perché ci sono stati fatti diversi tentativi anche con trattamenti biologici provando a inserire nel nostro ecosistema i loro predatori naturali ma diciamo che inserire una nuova specie è sempre una grande incognita si sa cosa si fa ma non si sa cosa succede ma perché li dobbiamo eliminare questi insetti che poi alla fine se tu li guardi sono così carini ma sono così tanto pericolosi per le nostre culture allora possono sembrare carini in effetti alcuni lo sono anche molto come popiglia japonica un coleottero iridescente che è arrivato attualmente purtroppo sì perché sono specie che non trovano limite di nessun tipo nell'alimentazione e nella riproduzione ed aumentando esponenzialmente causano danni sia alle coltivazioni come per esempio le viti e le piante da frutto consumando proprio attivamente le foglie e i frutti sia causando danni alle piante la cimice asiatica e il tarlo asiatico che sono questi due che possiamo osservare nel cartellone creano delle vere proprie ferite nella corteccia dell'albero che viene esposto quindi ad altri funghi batteri che causano malattie quindi la morte delle piante ecco insomma forse il più disfuso appunto è la popiglia sappiamo i danni che ha fatto alle nostre coltivazioni e quindi vanno combattuti però bisogna cercare di non combatterli con degli agenti chimici no? che poi ammazzano le farfalle è un casino esatto sì esatto hai sintetizzato molto bene la situazione attuale e quindi il vostro intento con queste mostre qual è? quello di sensibilizzare? assolutamente sì sensibilizzare verso quei piccoli comportamenti che possiamo ottenere magari anche per chi di noi ha un giardino un orto o anche semplicemente delle fioriere di utilizzare meno possibili sia pesticidi che erbicidi ma anche potenzialmente sostanze che vadano comunque a alterare il pH del terreno e poi appunto per valorizzare questo nostro bagaglio che abbiamo di specie uniche in questo fantastico territorio che è l'Oltrepò e che troppo spesso ignoriamo ci concentriamo forse troppo su lupi e animali più appariscenti e ci perdiamo la bellezza che abbiamo proprio di fronte a noi allora io richiamerei per i saluti finali per congedarci la direttrice Simona Guioli perché così insieme a lei eccola qua guarda arrivava eccola qui insieme a lei vorrei fare un po' il punto della situazione della vostra grande attività e naturalmente ringraziarvi per questo viaggio e poi se volevi aggiungere qualcosa su queste bellissime mostre sia questa delle farfalle che quella al barallo di Pregola dove mi diceva Matteo che ci sono proprio insomma reperti da vedere in poca carne tante ossa esatto è proprio il compito dei musei soprattutto quelli scientifici il fatto di raccontare le bellezze ma anche le problematiche i temi e dare delle soluzioni insomma far divulgazione come diceva Matteo viviamo in un territorio magnifico non dobbiamo perderci nei temi più classici anche se appunto come diceva il ritorno del lupo può apparire così in modo estremamente appariscente ma non dobbiamo perderci le unicità e le peculiarità del nostro territorio che anche se troppo spesso ce lo dimentichiamo è unico veramente in tanti aspetti quindi quello che vi vogliamo dire cari telespettatori che se possiamo gustare il buon vino possiamo gustare il buon salame e godere del territorio dell'oltrepo che è quello che maggiormente ricordiamo quello che magari maggiormente ci attrae dobbiamo sempre partire dal rispetto dell'ambiente in cui viviamo è vero o no? Verissimo e speriamo che con una visita al museo piuttosto che alle mostre eccetera questo messaggio passi anche non solo a chi ci abita che anzi ha ben chiaro questo concetto ma ai tanti turisti che troppo spesso se lo dimenticano e quindi attraverso voi nel ringraziarvi voglio ringraziare e portare i saluti anche a tutti quelli che collaborano con voi ai tanti volontari ai tanti ricercatori che consentono la costituzione di questi spazi che poi tutti possiamo fruire grazie ancora grazie a voi grazie a voi Stefano ti restituisco la linea e ci vediamo in studio grazie Maria Rosa grazie anche ai tuoi ospiti dottoressa Guioli per le tante belle iniziative a favore anche dell'oltreppo pavese noi ricontinuiamo a parlare invece di oltreppo montano allora Campetti abbiamo ancora due minuti e mezzo di conversazione io volevo parlare anche di un altro tema quello delle tecnologie delle infrastrutture tecnologiche come si suol dire perché inevitabilmente poi il turismo è anche legato a questo perché se uno viene da voi poi non trova la connessione buona se ne torna al proprio paese insomma il turismo comincia un po' ad affievolirsi come si suol dire beh il turista ma anche il residente ha necessità di tecnologie e di una connessione veloce questo è la consapevolezza che ha credo ogni amministratore ed in particolare come sindaco di Valdinizia abbiamo delle lacune Ponte Radio a Sant'Albano estremamente lento problemi neanche solo di telefono appoggio ferrato non ancora risolte quindi problemi che abbiamo come amministratore continuiamo al di là della situazione facciamo domande a volte sono ascoltate a volte no però sicuramente è una buona notizia siamo stati finanziati ed andiamo in conferenza di servizio a fine in questi giorni ma soprattutto entro le fine dell'anno inizieranno i lavori per portare la banda ultralarga parliamo di oltre 100 mega oltre 100 mega e chiaramente con il progetto a livello nazionale che vede coinvolta Open Fiber che dovrebbe utilizzare io dico il condizionale ma dalle informazioni che ho utilizzerà la struttura dell'Enel quindi distribuzione dell'energia elettrica queste strutture che sono a pillare e che nel giro veramente di pochi mesi dovrebbe uso condizionale ma do la certezza porteremo una banda ultralarga che è un servizio essenziale per i residenti per le tante seconde case anche di chi o l'affitto o è di proprietà perché con la pandemia con lo smart working darà la possibilità in futuro di lavorare tranquillamente a Valdinissa con collegamenti diciamo soddisfacenti e adeguati bene questa è una bella notizia chiudiamo appunto questa puntata con questo annuncio del sindaco Campetti che ringrazio per la sua presenza noi ci vediamo con TV Estate domani sempre puntuale in diretta alle 17.30 ed ora invece vi lascio in compagnia dei nostri notiziari buona serata a Grazie a tutti.